Ma senti, Viola, posso fare un breve smash or pass? Dato che tanto ormai sei single Vai! No! No, ragazzi, questi giochi non li voglio fare Dai, Viola! Dai, Viola! Luke Ehi, piccola Ti ricordo che mi trovi in live sulla piattaforma Viola Dalle 21 e 30 Dal lunedì al venerdì Passa di lì se vuoi goderti lo show E se mi vuoi supportare, fai anche una soap Ti ricordo che con Amazon Prime è gratuita Baby, you light up my world like nobody else Cristiano, per esempio Cioè, è ancora sotto Viola a piangere a Roma È lì da solo Viola vuol solo sempre Ma è ancora così la situazione Viola, ma cosa gli hai fatto a sto? Viola! 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 Abbiamo visto gli ultimi video La spezza curi Non riesco ancora a realizzare tutto ciò E via Silvi È andata così Ma come? Cioè, nonostante Ti ha portato nel campo Verde Quale campo? Cioè, non c'è proprio più spiraio Non c'è più Dai Viola Allora, il futuro Che ne so il futuro che succede Però, ora no Vabbè, oh Ce l'ho detto no Ma neanche un Il futuro Ma, aspetti Viola Il tuo futuro è inteso per? Quanto futuro? Eh, bravissima Che vengono lì Che c'è che dovrebbe essere Futuro prossimo Futuro remorso Futuro prossimo Lo stavo per dire anche io Grande Futuro Futuro Cioè Due anni Cent'anni Un millennio Beh, cent'anni Che ce ne sarà più Ma scusami Io ho visto quel video che hai fatto Che non volevi passare Per la cattiva della situazione Esattamente Però un po' cattiva Adesso parlo io No, non sono stata cattiva Ho detto le cose come stanno Punto Cioè, nel senso che tu hai Messo parlo di un ragazzo Che ti vuole bene Sì Voi non avete mai dato parlo A qualche ragazza? Che non mi interessa No, a me non è successo Sì Mai successo Allora Viola, devi sapere Che loro, le ragazze Neanche le vedono No Ah, è vero Ma a me si Vedono la ragazza Ultimamente è vero Ultimamente è una cosa Super veritiera Ma non le vedo non Perché non c'è Mi sa che sono loro Che non vedono noi Vabbè Dettagli Sai qual è il problema? È che dopo che Gli hai detto di no Il ragazzo Mi ha proprio tracollato Cioè Prima era Un ragazzo pieno di vita Sorridente Scherzava sempre Saludava sempre Adesso è È un ragazzo spento Triste Ma guarda che siamo amici Con lui Ma dai Viola Ma allora Da parte tua Ci sarà amicizia Eh sì Ma lui lo sai Che è innamorato perso Questa amicizia Per lui è una prigione Eh ma almeno Siamo amici C'è capito Ma è per me Se sto con una ragazza E mi lascia Preferisco non vederla più Dopo L'amore Non c'è amicizia Se c'è stato Veramente tanto amore Bravo Eh ma da parte sua Quindi Quindi Viola Sta affermando Che non c'è stato Veramente tanto amore No Ho detto che È andato a Vabbè ma Sanno pure scendere Questa mia È un'analitica De bitcoin È un grafico Sale e scende Ma il bitcoin Poi torna su Attenzione Esatto Attenzione Può salire la valuta Può salire la valuta Adesso è scesa Va bene lo stesso Però può salire Tu me l'hai distrutto Cioè il ragazzo Era nel chilling Era nel chilling Era una fonte Ma si riprenderà Prima o poi Ma si Un ragazzo nel chill Che ha la propria ragazza Invece Adesso è un ragazzo nel chill Col cuore spezzato È tipo Sai il meme del cane Lui prima è il ragazzo Del chill Adesso è il cane Quello Il ragazzo nel chill Quello cattivo Entendi Cioè Cristiano Cristiano prima di questa cosa Amava il breakfast club Cristiano adesso Odia il breakfast club Non sorride più No Cristiano adesso Amava il breakfast club Tranne il mio culo Giulia ma te Sta cosa come Cioè Preferisci così O come prima Se loro adesso Stanno bene Forse così Ma tu scusami Cristiano non sta bene Io farò cupido E cercherò di farli Rivendere insieme Ragazzi Tu Ma tu Non vuoi che si mettono Insieme Rimini Giulia Giulia tu non vuoi che Tu non vuoi perdere Viola come amica E quindi non vuoi che Si rimettano insieme No io ho Viola che è la mia Migliore amica E Cristiano Che è il mio miglior amico Quindi sto un po' Capito Sei una bugiarda Ma scusami Viola Te non manca Neanche un pochino Cristiano Tu è stata proprio Una decisione secca Non ripensi No no Allora ci ho pensato Prima di prendere Questa decisione Ovviamente Non è che Così un giorno Mi sono svegliata No basta Non Non proprio interesse Per Cristiano È stata una cosa Come raccontavo il video Che me ne sono resa conto Col tempo Ragionando Succedono Ragazzi Nelle relazioni Succede anche questo Cioè Non Cioè Mica l'ha tradito Nel senso Succede che scende Secondo me È stata anche brava È onesta a dirlo Questo sono d'accordo Perché comunque Poteva anche non dirlo Capito E poi passo per la cattiva Capito Esatto Ma perché tu sei cattiva Perché mi ferite il cuore Di un gentiluomo Di un cyborg Non ho ferito il cuore Ho detto le cose come stanno Infatti Vabbè per lui comunque Vabbè Loro intendono che Non è colpa tua Tu l'hai ferito Perché lui Provava diverse cose Eh certo Ci sta tutto Però Viola ma scusami Frascati Dimmi dimmi Cioè A sto punto Hai voluto ribadire Che con Cristiano Non c'è niente Con Cristiano è finita Con Cristiano è pausa Ci sarà qualcuno Che ti interessa allora Uh Ecco No Aia Il doc Aia Viola Se la ride Se la mette la Chi ti interessa Viola Viola Ti piace il doc Viola No no Sto scherciando No veramente Viola Ti piace il doc Viola Viola Ti piace il doc Viola Nessuno Nessuno Ti piace il doc No a parte che Viola quanto sei alta te È tipo 1,72 1,72 1,72 Sono io Com'è possibile Che è più alta di me Non è più alta È più alta No non è più alta Cioè è più alta Veramente Sotto sotto Fa È più alta anche di te Sì Allora è un problema Io non sono 1,72 Allora è tutta una leggenda No aspetta Allora Che è veramente più alta Fa obiettivo tramite Ma noi siamo 1,70 almeno No 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 ragazzi Mi scherzo Non fai Non fai Non fai Non fai Non fai Non fai Allora Stai calma Una cosa Una cosa Io non vedo l'ora Di vedere Fabio Ma allo stesso tempo Ho paura Perché se io vedo Fabio E sono più basso Non riesco più di casa No no Sei più alto Sono più alto Tu sei più alto di Fabio Eh io non lo so Giulia Non mi ricordo No aspetta No allora Io mi ricordo Che tu eri più alto di me Quindi sei più alto di Fabio Doc più alto di te Ma io sono più alto di Giulia Sì ma di pochissimo Fabio Forse l'hai visto Quando era salito in piedi sulla scala No non mi sentimo uguali Siede Mi sentimo uguali Va bene C'ho l'Eme Queen C'ho l'Eme Queen Fa Fa Quello che mi Mi lascia un attimo a desiderare È il fatto che io Mi ricordo di Viola Perché Non era proprio Più alta così Era un po' No no Più alta Roba seria Cioè Più alta che c'è Secondo me il Doc Te lo ricordi Ho capito Perché tu eri seduta Per fare la foto Il Doc è che ti piedi sul divano Forse per quello Che pregunto Ma senti Viola Posso fare un breve smash or pass Dato che tanto ormai sei single Vai No No ragazzi Questi giochi non li voglio fare Viola No Nuke Non rispondo Mi astengo Dai Quindi il ragazzo No Il motivo Il motivo per il quale Tu sei andato a vedere Tre puntate di Amici Ti astieni No No facciamo così Risponde Giulia Per me Cioè Secondo Giulia Bello Bello Bellissimo Vai Vai Alla pratta Allora Allora Premetto Che non sono io Cioè Ok Ok No no Tu devi rispondere Per Giulia A nome di Viola Esclusivamente Giulia Vai Allora Giulia Luke 3 Ma io non lo so Luke 3 Eh Smash Ok No Smash Hai risposto Giulia Io non ho detto niente Secondo lei Può essere Secondo lei Oh Risponde Giulia Luke Smash Smash Dai Dai Allora io ho un altro nome Non so se lo conosci Vado delle canzoni Vado io eh Mi fa una testa così Quindi secondo me Mi ha smesso Sì anche io sono Innamorato di tiktok Di Alessia Lanza Giulia Non direi Perché non mi piace Alessia Lanza No voglia Ma pure a lei piace Ok Faccio il nome Vai fallo Non so se lo conosci Il doc Quello con il bacio del collo Il nano No Impossibile Perché a viola Sono quelli principini Capito Eh il doc È un po' Ammaranza Sono un re No scherzi Sono tutto Il doc È un maranza Allora Un nome esotico Alberto Tozzi Non lo so Sono il best Cioè sono amici Sono amici Sono solo amici Ok 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 Oh c'è uno Tutti sono solo amica Non è che quelli Che dici smash Perché No sono fatti Eh ok Aspetto che la chat Lo spammi un po' di più Voglio che la chat Ve lo Dai dai No ragazzi Matteo Il calcio Greco Eh? Detto anche Teo Greco Ah Secondo me è Pesso Non volevo essere Cattiva Però secondo me è Pesso Pesso? Cioè non so Pesso Albert Goodman Ha detto Pesso Smash Smash ok Vabbè Pacchi Sibillo Pessissimo Allora sta rispondendo Pess Devi rispondere per me Giulia Non per te Eh secondo me è Pesso pure la parte tua Se ti piace nei principi Quello è tutt'altro Fabio Ferrucci Pesso sono amici Come si chiama quello? Cristiano Borsi Sì Eh certo che è smash Talmente smash Che si è spenta la telecamera Talmente smash Che ha bandato tutto Talmente smash Che non si ha creduto Nemmeno la telecamera Smash Viola Ma quando hai la possibilità A quel povero Cristiano? Già io dai tanti Ahia Cristiano Non si sa mantenere La sua regina Pess Il doc Eccomore Ritornerò Abbiamo capito che Viola Ha un tipo Ha un tipo di tipo I principini Ha un tipo Ha un tipo di tipo Esattamente Cioè Allora Ok In che senso Come deve essere? Tipo No pariolino Però tutto Cioè Matteo Robert Allora è tipo Il tuo prototipo A me Cioè È bello È bello ragazzo Però mi piace più Occhi Tipo Vabbè No Cioè Non con quei colori Capito come Occhi alla look 3 Per dirci No Che c'entra Allora Mi ha appena chiamato Amici Ma Giulia Che cosa sta La sta chiamando Cristiano Ah sta chiamando Pachi Dal treno L'ha chiamata Al capotreno Si è fermato Il treno di Pachi Tra l'altro Pachi Una volta Sai che fece Il comandante dell'aereo Mi segue dall'aereo Perché te la foto Pachi Un casino Pachi